Eccola, è stata vera libertà, finta. Allora, siamo arrivati dopo un pellegrinaggio di negozi. E una caricatura. E abbiamo fatto fare una caricatura da una signora che faceva le caricature. Una ragazza. Una ragazza. E da te si guarda così. Beh, fa niente, non l'avete visto. Ve la illustriamo, tac, una bella caricatura. Mo' arriviamo alla Statua della Libertà. Però non ve la facciamo vedere. Intanto sullo sfondo abbiamo i palazzoni, il Rainbow Bridge. Adesso vi... no, Rainbow Bridge. Il Rainbow Bridge vi portiamo alla Statua della Libertà, a New York. Direttamente a Tokyo. Va a fare come quelli... Ah, è vero. Adesso lo facciamo. Vi facciamo questo... questo magheggio. Tac. Statua della Libertà. Siamo qui in America. E alle nostre spalle... Fuji TV. C'entra la Fuji TV con la palla della Fuji TV. e sotto la palla del Fuji TV c'è questo posto dove fanno gli hamburger. Famigerato per essere stato un luogo dove Marco Togni ha girato un video mangiando un panino, osservando la baia di Oda Aiba e la Statua della Libertà di Oda Aiba e la Statua della Libertà. Andiamo? 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 Grazie.